Un progetto importante sviluppato dagli oratori delle diocesi lombarde e dall'università cattolica. Ovviamente attenzione alla questione educativa, alla questione oratoriana. Come si inserisce anche il laboratorio dei talenti in tutto questo? Si inserisce perché abbiamo vissuto un decennio molto importante per il tema dell'educazione. Educare la vita buona del Vangelo è il tema che ci ha accompagnato come Chiesa Italiana in questi dieci anni. Quindi facciamo anche un piccolo bilancio di questo percorso e certamente sono stati anni molto intensi, in particolare il primo quinquennio, poi il secondo quinquennio illuminato anche dal convegno ecclesiale di Firenze ha riportato comunque l'attenzione sui giovani. Basta ricordare quello che Papa Francesco disse a Firenze chiedendo ai giovani di essere in prima linea proprio nella ricostruzione del paese e l'attenzione ai giovani c'è stata sia all'inizio del decennio e la commissione che a suo tempo presiedevo con il documento, il laboratorio dei talenti ha voluto proprio indicare gli oratori come una delle risorse più importanti sia per la tradizione sia per l'impegno attuale a servizio dei giovani. E oggi ci ritroviamo grazie anche alla Christus Vivit a rilanciare questo percorso. Quindi credo che la Chiesa milanese in modo speciale sia interprete di questa passione educativa che si traduce anche nel lavoro e nell'attività degli oratori.